Ultimamente ho preso molto a cuore alla causa ambientalista, l'ho presa molto a cuore, tanto che adesso ogni volta che mi masturbo vengo direttamente nel bidoncino dell'umido. Capito? Così risparmi la carta. Greta sarebbe molto fiera di me. Tra l'altro penso a lei di solito. No, 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 no! Taranto quest'applauso la dice più lunga su di voi che su di me, cioè nel senso io ho fatto la battuta ma voi avete applaudito. Se scorreggio su una scella, questa dopo saprà di sudore o di merda? Se sa di merda, quindi le scorreggio e rientrano tra i deodoranti? Ma soprattutto, se quella è la versione spray, va bene, va bene, l'avete capita, l'avete capita. È bello quando non sei neanche costretto a dire la battuta, la chiudete voi già nella testa. Mi piacciono le donne con gli occhi grandi perché così quando gli faccio vedere il mio pene sembrano sorprese. Incredibile. A Natale mi hanno regalato un butt plug di sughero. Sapete tutti cos'è un butt plug? È una cosa che si mette nel culo. Butt plug. Butt e culo, vabbè. Mi hanno regalato un butt plug di sughero che mi piace però adesso ogni volta che faccio il bagno mi gallegge il culo. Mi hanno regalato questo butt plug di sughero che è bello, però adesso le mie scorreggio sono di tappo. Si capisce? E poi un'altra cosa che mi piace, è un butt plug, mi piace quando entra, però mi piace ancora di più quando esce che fa... È una roba meravigliosa. Secondo me è un finale bellissimo per un rapporto sessuale. Adesso queste qua sono delle battute random. In questa società che ci vuole sempre più computer io ho deciso di essere la stampante. Ce l'avete presente la stampante come ragione di vita? Tu gli dici alla stampante, stampa questo e lei, non sono collegato. Ma va bene, ti rifaccio il collegamento, stampalo. È finito l'inchiostro giallo. Ma è bianco e nera la stampa, dai stampa. No, è finito l'inchiostro giallo. È così che io mi sveglio tutte le mattine. Oppure questa qua la elimino per sempre. Lui che mi dà il consiglio di eliminala. Tu parente suo, uguale. Sono andato in palestra, è stata una lezione strana, c'erano delle corde, la gente urlava, alla fine ci hanno fatto bere del rum. Poi ho capito, era lezione di pirates. Va bene, va bene raga, io sono qui per provare anche le cose. Cioè non è che uno dice, ah la comicità che bella, bisogna anche passare dal disagio, ok? Io ve l'avevo detto. Poi, odoratelo, ok? Ultimamente mi stanno molto interessando i capezzoli. Ce l'avete presenti? Questi? Stavo riflettendo su sta cosa, che avete mai notato che quando andate per strizzare i capezzoli a qualcuno, questa persona di solito si difende facendo... Che ci sono mille altri modi per difendersi. Lo puoi bloccare, puoi scappare via. Invece loro no. Broadway, subito. Che tra l'altro ripensavo al fatto che è il modo peggiore per difendersi da una strizzata di capezzoli. Perché questo, come unico effetto, ha quello di sembrare più sexy. E quindi all'altro verrà ancora più voglia di strizzarti i capezzoli. È proprio un cane che si morde la coda. È una storia tristissima. Che tra l'altro, pensavo anche questa cosa, strizzare i capezzoli inverte anche gli stereotipi di genere. Infatti, se ci avete mai fatto caso, strizzi i capezzoli di un uomo, questo qua dopo farà... Tipico. Strizzi i capezzoli ad una donna, questo qua di solito dopo fa... Che cazzo fai? Questo qua, vabbè, questo qua è eliminato per sempre, vabbè, il disagio direi che c'è stato. Direi di chiudere con un trittico, almeno questa parte di battute, direi di chiudere con un trittico che parla di un argomento che secondo me, almeno tutti ci abbiamo riflettuto, almeno una volta nella vita, che sono le differenze che ci sono tra il mio pacco e quello di Amazon. Bene, sono da... sono contento di trovare... ecco. Che differenza c'è tra il mio pacco e quello di Amazon? Che se apri il pacco di Amazon in pubblico, la gente non reagisce facendo Che schifo! Copriti! Copriti! Yak! Che schifo! Chiamo la polizia! Invece se lo faccio io, sì, è incredibile. Che differenza c'è tra il mio pacco e quello di Amazon? Che il pacco di Amazon arriva quando l'hai ordinato. Il mio? Quando è l'autostima bassa. Hai bevuto un po' troppo. Quella sera ti senti sola. Allora sbam! Anzi, din-don! C'è un pacco per lei. Pipuricciate. Che differenza c'è tra il mio pacco e quello di Amazon? Che il pacco di Amazon contiene quello che desideri. Il mio? Quello che non sapevi di volere. Grazie. 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 Grazie.